Attimi di tensione ieri pomeriggio intorno alle ore 17 ad Agropoli per l'incendio di un furgone parcheggiato in Viale Umbria nei pressi del centro smistamento delle poste. All'interno del furgone materiale di legno sembrerebbe da alcune indiscrezioni raccolte sul posto che l'incendio sia di tipo doloso. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello che hanno prontamente delimitato l'area. Subito dopo presenti anche i vigili urbani di Agropoli coadiuati dal Maggiore Cauceglia e i caschi rossi del locale di staccamento che hanno provveduto a domare le fiamme. Danni si sono registrati anche ad un'automobile in sosta nelle vicinanze. Vetri rotti in più punti dell'autovettura Alfa Romeo 147 grigio. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale compagnia per capire l'esatta dinamica dei fatti. L'area è stata messa in sicurezza e bonificata dalla ditta pista.